Alleggerire il lavoro degli ospedali per acuti risparmiando su costi e tempi. A questo risponde l'ospedale distrettuale, la struttura che si inserisce nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera del Lazio da circa un anno è operativa in provincia di Frosinone al Delprete di Ponte Corvo. L'ospedale distrettuale o Casa della Salute è rivolto sia a pazienti appena dimessi degli ospedali canonici, sia a quelle persone che a casa non riescono a soddisfare le loro necessità sanitarie ma che non necessitano comunque di un ricoverano i nosocomi tradizionali, il tutto con l'apporto fondamentale dei medici di famiglia. La struttura di Ponte Corvo è dotata di ambulatori specialistici e anche di un reparto di degenza con 15 posti. Noi abbiamo pazienti che vengono dagli ospedali per acuti e dalla medicina di base. Dall'inizio abbiamo ricoverato circa 300 pazienti, di questi il 60% inviato dai medici di medicina di base e quindi si tratta di pazienti cronici e il medico di medicina di base ha individuato questa struttura proprio come alternativa all'ospedale per acuti. Il 40% ci è stato inviato dagli ospedali. Importante novità, la degenza viene gestita direttamente dai medici di base. Direttamente da noi, sia nelle decisioni cliniche, sia nelle decisioni organizzative nel senso del ricovero, della terapia, della dimissione e di tutto quello che può servire in questa fase. Possiamo dire direttore che si va a superare quella dicotomia fra cuore ambulatoriale e cuore ospedaliere? Sì, sì, esattamente. Infatti Zincaretti ha previsto nella regione Lazio, mi sembra sui 50 case della salute, tutti gli ospedali che dovranno essere riconvertiti e qui nella provincia di Frosinone poi il nostro generale ne ha previste 6. E nell'ambito del futuro atto aziendale queste case della salute in provincia di Frosinone sono previste ad esempio negli ex ospedali di Ceccano, Atina e Isola dell'Iri, un'ipotesi che potrebbe riguardare anche Ananni. Se la magistratura dovesse decidere per la chiusura di Ananni è ferma intenzione dell'attuale dirigenza dell'Azio di Frosinone di creare un'altra struttura simile.